gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia la notizia è appena arrivata per il crollo delle pille produzione interna lorda italiana c'è la produzione di ricchezza quindi per la crisi economica dovuta alla crisi sanitaria le future pensioni verranno tagliate dal 2 e mezzo fino al 3 per cento quindi la grave recessione economica che ha colpito e continuerà a colpire nei prossimi mesi e nei prossimi anni purtroppo l'italia che già pre crisi era l'ultimo dei 27 paesi dell'italia dei paesi dell'europa l'ultimo non è un modo di dire ma realmente era l'ultimo per crescita economica il paese si collocava addirittura in recessione tecnica dopo due trimestri con il segno negativo quindi chi andrà in pensione nei prossimi anni avrà un bel problema e qui si parlava anche che a luglio il governo non aveva i soldi non avrà i soldi per pagare le pensioni non si è detto più nulla si spera che questo non non accada che i soldi per le pensioni ci siano perché non avere i soldi per pagare le pensioni comporterebbe addirittura comunque l'avvio a un fallimento del paese a un default quindi non si è più parlato però già si comincia a parlare di pensioni sotto un altro aspetto ed è questo che vi adesso vi vi racconto quindi intanto un crollo del prodotto interno lordo nei primi mesi della crisi bisognerà rivalutare il montante contributivo per i versamenti dal primo gennaio 1996 in poi alla base del calcolo dell'assegno della pensione quindi il governo deciderà se far finta di nulla il che determinerebbe una riduzione permanente degli assegni che verranno liquidati dal 2022-23 in poi e che potrà arrivare fino al 2,5-3% per gli assegni interamente contributivi rispetto all'importo che si sarebbe avuto senza la recessione quindi una trentina di euro lordi in meno al mese prendendo come riferimento l'importo medio delle pensioni liquidate nel 2019 cioè 1126 euro quindi si evince che la pensione media italiana l'assegno medio dato agli italiani è di 1126 euro questo basandosi su un importo medio ci sarà una riduzione di almeno 30 euro al mese 30 euro al mese si parla di 360 380 390 euro all'anno quindi una riduzione abbastanza abbastanza consistente abbastanza consistente quindi 2,5-3% di riduzione per le pensioni che cominceranno a essere pagate nel 2022-2023 quindi una notizia assolutamente orribile ma è complesso da spiegare il meccanismo della riduzione ma si ispira alla riforma Dini del 1995 per mantenere in equilibrio il sistema finanziario e attenzione con due mesi di chiusura o almeno per alcune attività tre mesi di chiusura sta portando a una riduzione dell'assegno pensionistico per le prossime pensioni del 2,5-3% e questo se l'economia non andrà a peggiorare perché attenzione il problema è che non è che da maggio in poi con l'apertura l'economia riprenderà e recupererà tutto quello perso assolutamente no nel senso che se io ho rinunciato a 90 giorni di caffè non è che adesso mi prenderò 90 caffè per recuperare se non ho preso il taxi ad aprile non lo prenderò adesso per recuperare se non ho tagliato i capelli per tre mesi adesso non è che andrò quattro volte dal parrucchiere quindi c'è un'economia persa e ci sono negozi che non stanno aprendo il 30% cioè un negozio su tre non sta aprendo vuol dire non che non apre perché non vuole aprire dice apro dopo facciamo passare la crisi non sta aprendo perché non può economicamente quindi ha chiuso per sempre ha chiuso per sempre sparendo per non vedere il proprietario dei muri presentarsi davanti al negozio per chiedere l'arretrato di tre quattro mesi tra i mesi non pagati più il mese nuovo sono quattro mesi d'affitto quindi molti negozianti dicono io sparisco non mi faccio più vedere fammi pure causa anche se il governo sta dicendo che chi ha chiuso non dovrà pagare l'affitto che non è stato pagato però bisogna capire cosa vuol dire chi ha chiuso chi ha chiuso a marzo chi ha chiuso ad aprile chi ha chiuso a maggio chi chiuderà tra qualche giorno non pagherà l'affitto non si capisce bene esattamente di cosa si parla quindi la crisi economica da adesso in avanti non è che se si è fatto meno 9 meno 10 di pil adesso si recupera meno 8 meno 7 adesso nei prossimi mesi con attività chiuse disoccupazione in aumento il pil scenderà ancora di più da maggio fino a dicembre quindi quel due e mezzo tre per cento del riduzione delle pensioni future si spera che non venga ricalcolato in in peggio quindi il metodo di calcolo contributivo della pensione si applica su tutti i versamenti dal 1996 in poi escludendo solo coloro che a quella data avevano più di 18 anni di contributi che mantengono il più vantaggioso sistema di calcolo retributivo e che tra loro sono già quasi tutti andati in pensione gli altri ricadono invece in tutto se hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre del 95 o in parte se hanno cominciato prima nel metodo nuovo contributivo nel calcolo quindi chi prevede appunto la rivalutazione del montante versato sulla base del coefficiente calcolato ogni anno dall'inps sull'andamento del pil nei cinque anni precedenti dal 1996 in poi questo coefficiente è stato sempre positivo sia pure in calo a causa del progressivo rallentamento della crescita dell'economia nel 2015 per la prima volta il coefficiente presentò un segno meno si parlava di meno 0,00 1927 il che avrebbe prodotto un leggero taglio del montante accumulato fino a quel momento ma il governo con il decreto legge numero 65 del 2015 stabilì che per quell'anno la variazione non si applicasse il montante non subisse riduzioni quindi qual è l'impatto dal 2022 la stessa norma regola anche il da farsi nel caso in cui si abbiano di nuovo come potrebbe accadere ora coefficienti negativi stabilendo che lo scarto col segno meno debba essere recuperato negli anni successivi sottralendolo dai tassi positivi senza mai scendere sotto lo zero se necessario quindi il recupero avverrà in più anni quindi che cosa voglio dire che probabilmente potrebbe il governo dire va bene quel taglio di 30 euro non lo facciamo sulle sulle pensioni ma questo segno meno di quest'anno lo andiamo a recuperare nei prossimi anni quindi i piccoli segni più che ci saranno il prossimo prossimo anno i prossimi anni andranno a recuperare questo grosso segno meno che porterebbe una riduzione di 30 euro al mese ai nuovi pensionati potrebbe farlo il governo o potrebbe anche non farlo in quanto il governo lo stato più che lui è lo stato non ha soldi è uno stato con un debito altissimo uno stato tecnicamente fallito che continua ad auto sostenersi facendo debito su debito quindi non è automatico che avvenga questo recupero negli anni successivi quindi stando ai calcoli dovrebbe esserci questa riduzione in ogni caso anche se non arrivasse a coefficienti negativi perché già dal 2021 in poi il pil dovesse tornare come prevede il governo in crescita è chiaro che essi saranno nettamente più bassi di come sarebbero stati senza questa malattia determinando appunto una perdita permanente sui nuovi assegni dal 2022 perché per via dello sfasamento di un anno previsto dalla legge quello primo sarà e quello sarà il primo anno cui si applicherà un coefficiente frutto anche del pil 2020 di qualche decina di euro al mese il quotidiano il messaggero che oggi solleva il caso calcola per esempio che una persona nata nel 1956 che ha cominciato a lavorare nel 1980 e va in pensione nel 2023 a 67 anni perde il 22,7% sulla parte contributiva della pensione e l'1,7% nell'importo complessivo della pensione lorda in questo caso calcolata col sistema misto retributivo fino al 96 contributivo dopo quindi anche se la malattia come tutti ci auguriamo passerà i danni che lascerà peseranno purtroppo per molti anni spiacente di aver dato questa brutta notizia io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è gratuita e nella prossima siamo anche nella pagina di facebook tele italia dove trovate tutti i nostri video vi ringrazio vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti i nostri video vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio di